Sol Leone, Venticello, niente nuvole, cosa chiedere di più. E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo addisissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non interranno nemmeno uno spiglio. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'attezza della fede dei sostenitori. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. La gara è iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Ci mette una pezza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Messi non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Se ne va. Neymar Tentativo di allungare il gioco. Bell'anticipo, pericolo sventato. Cerca un compagno, può cercare il taglio in mezzo. Agüero Agüero Alisson, dice di no. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Ci ha da una palla lunga. Messi Bella rete di passaggi. Viglia C'è il fischio dell'arbitro e fallo. In cornata. Completamente fuori misura. Gironbo a tenda. Si spinge davanti. Non è esitato a farsi sotto. Ti ha avuto la meglio. Agüero La conclusione straordinaria. Una giocata perfetta. E il risultato si sblocca. 1-0 Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Loro il filtrante. Neymar Scatta verso il pallone. Occhio al tiro. Ottima la parola del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Messi Sceglie topo vuoto. Pallone verso il pallone. Lontano. Opta per il lancio lungo. Messi Cerca il tocco filtrante. Neymar Non riesce ad arrivare. Sergio Ramos La gioca sulla destra. E Bruin Vuole la profondità. Sergio Roberto Provano a ripartire da dietro. Agüero Cerca spazio. Grande Cristian Alisson Lui c'è di nuovo. Lo stringe l'avversario al fallo. Tocco preciso. Sulla destra. Ottimo dribbling. Lui c'è di nuovo. Bello intervento di Cicino. Diglia. Neymar. Diglia. Prova la giocata nello spazio. Sergio Roberto. Scatta verso il pallone. Neymar. Perfetta la parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Grupo emozionante. Ancora tutto da decidere. Si ricomincia. Il Barcellona deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol. Oppure aspettare l'avversario e puntare il contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi. Sarebbe troppo rischioso. Hazard. Riceve in aria. Cerca il tiro. Ce l'hanno fatta. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito gol. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si ricomincia da una situazione di parità. Sono tornati. Consia la nuova. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato. Ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Conducono con una rete in più degli avversari. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Riceve un pallone interessante. Avanti. Tenta la conclusione. Hazard Vuole la profondità Bella apertura Mohamed Sla Diglia Messi Il Barcellona non ha ancora effettuato cambi Jerome Boateng Oggi autore di un assist Prova il filtrante Cristiano Ronaldo Scatta verso il pallone Jerome Boateng Riceve un bel pallone Intercetta e sbaglia una situazione che si faceva molto pericolosa Lancio lungo del portiere Sergio Ramos Cerca un compagno Ottimo intervento Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario Hazard Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie Diglia Cerca spazio Neymar Scatta verso il pallone Chiedono il corner E l'arbitro è d'accordo Cristiano Ronaldo Scravo di una situazione Devono pareggiare E fanno bene a prendersi qualche rischio anche di pensori per accompagnare la manovra Jordan Anderson Prova a passare con un pallone profondo Si libera la grande Ottima parola del portiere Difesa molto distratta in questa occasione Non possono permettersi di perdere la concentrazione così Cristiano Ronaldo E passa Cristiano Ronaldo Conclusione sul fondo Buongiorno Buongiorno Grazie a tutti.